Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione di TG Parmense. Questa sera parleremo di notizie di cronaca e non solo, faremo anche un piccolo resoconto sulle ultime festività, quindi gli ultimi eventi goliardici e ludici che si sono effettuati, che abbiamo vissuto in quest'ultima parte delle festività 2017-2018. Partiamo quindi con un servizio riguardante il soccorso che è stato effettuato grazie al Corpo dei Vigili del Fuoco di Langherano, alla stazione del Monte Orsaro, sul soccorso alpino parmese e all'eli Pavullo, l'eli soccorso che per l'appunto sono stati impegnati nel soccorso di una ragazza residente in provincia di Parma che sabato è scivolata e quindi ha avuto bisogno di un pronto intervento di soccorso in località Rusino, vicinissimo a Tizzano Valparma, nel comune di Tizzano Valparma. Nel servizio che segue i dettagli e il racconto a cura di Giuliano Capece. Le immagini impressionanti che vedete sullo sfondo sono quelle di un soccorso con tanto di elicottero e di vericello avvenuto nel giorno dell'Epifania nella Valparma. Una ragazza di 30 anni è caduta e si è infortunata in un'escursione con la sorella nella zona di Tizzano. I tecnici della stazione Monte Orsalo del soccorso alpino di Parma, assieme ai vigili del fuoco di Langherano, l'acqua di Tizzano ed a Eli Pavullo, il soccorso attrezzato per il soccorso in montagna, sono stati infatti ingaggiati dalla centrale operativa 118 per una ragazza ferita in località Rusino, nel comune di Tizzano. Questo, come dicevamo, il giorno dell'Epifania. La giovane, una trentenne residente in provincia di Parma, era con la sorella a passeggiare quando il fango l'ha fatta cadere compiendo un volo in una scarpata e riportando tromi facciali e toracici. La sorella ha prontamente chiamato i soccorsi che in breve tempo si sono mobilitati. Dal passo del Lagastrello è partita una prima squadra del soccorso alpino dell'Emilia-Romagna, già impegnata in un altro intervento, mentre un'altra squadra si è mossa dalla Valparma. Nel contempo si è alzato in volo Eli Pavullo e sono stati immobilitati i militari della Croce Rossa italiana e i vigili del fuoco. Arrivati sul posto, i tecnici del soccorso alpino hanno messo in sicurezza la ragazza e hanno aspettato l'arrivo dei sanitari dell'eliambulanza. Una volta stabilizzata la giovane è stata recuperata e quindi imbarcata sull'elicottero che l'ha trasportata non all'ospedale maggiore di Parma o a quello di Reggio Emilia, bensì all'ospedale di Pavullo sulle montagne bonelesi, in quanto gli ospedali di Parma e Reggio erano irraggiungibili per l'elicottero a causa della fitta nebbia. E proprio questa sembra a noi una notizia importante per il parmese e anche per i territori appennici. E' oramai un mantra che tutto bisogna centrare verso gli ospedali più importanti, più qualificati, perché intanto l'elisoccorso permette di ridurre le distanze. Questa è una dimostrazione che non è vera perché ci sono momenti in cui comunque l'elisoccorso non può volare, sono tanti, la notte, la nebbia, la pioggia, la neve e tante altre occasioni. Ed è in queste occasioni che a volte invece l'elisoccorso fatica meno ad andare in un ospedale di montagna, come è capitato l'altro giorno per la ragazza che vive nel parmese e che è stata trasportata nell'ospedale di montagna di Pavullo. Un segnale che va contro tendenza, un segnale che dice bisogna mettere qualche soldo a investire anche sulla sanità e sugli ospedali di montagna. Un plauso quindi a tutte le forze dell'ordine e a chi si presta al soccorso, quindi tutti i volontari del soccorso, ai vigili del fuoco e naturalmente anche al soccorso alpino e all'elisoccorso. Grazie per il vostro operato e naturalmente noi vi raccomandiamo sempre gentili telespettatori la massima prudenza quando decidete insomma di intraprendere camminate o comunque escursioni. Portate sempre con voi un telefonino magari se possibile di ultima generazione con il quale potreste agevolare indubbiamente senza ombra di dubbio il vostro ritrovamento e quindi il vostro eventuale soccorso ma prestate sempre la massima attenzione. Adesso passiamo invece ad una notizia sempre di cronaca ma ai noi dal sapore decisamente più sgradevole perché Varano Melegari ha dato l'ultimo saluto all'amico di tutti per Ogol all'anagrafe Giuseppe Bernazzoli che è scomparso lo scorso 5 gennaio all'età di 90 anni. Lascia in eredità alla sua gente uno smisurato amore per tutta la sua Varano e per i suoi concittadini che lo ricordano così in questo servizio a cura di Giuliano Capece. Grande cordoglio nei giorni scorsi a Varano Melegari per la scomparsa di Giuseppe Bernazzoli conosciuto da tutti come Perogol. Con l'anno apportante della dinamica vivace e fantasiosa proloco del paese della bassa Valceno è stato da loro insignito nel 2006 del titolo di Presidente Onorario un titolo acquisito sul campo per merito grazie al grande impegno e disponibilità che ha allargito l'associazione dal paese fin dal 1997, anno in cui è tornata a Varano dalla Svizzera. Così attivo che il camioncino della proloco aveva sulla fiancata, a fianco al simbolo dell'associazione la scritta Perogol. In tanti, come me per qualche tempo, avranno pensato che Perogol fosse il main sponsor della proloco invece no, o meglio sì, perché con il suo impegno è stato molto più utile e prezioso di un qualunque sponsor principale. Il soprannome Perogol oramai aveva sostituito quello del suo nome. In questi giorni il passaparola in paese era il seguente sai è morto Gino Bernazzoli, Bernazzoli chi? Poi si aggiungeva dai sì Perogol e da lì partiva no mi dispiace. Perogol ci ha lasciato il 5 gennaio, nato a Varano nel 1928, figlio di Silvio e di Bercelli Ismilde aveva tre fratelli, Ettore, Ugo, Gino ed una sorella, Daphne. Il fratello Ugo, nato nel 1921, è stato trucidato nel 1945 nel tragico Eccidio del Dordia. Ha sposato Anna Tancredi, con cui ha avuto due figli. Giuseppe emigra in Svizzera nel 1965 e lascia il primo anno a casa moglie e figli. Il lavoro è buono, lavora in una dita di trivellazione e fa il macchinista, usa la sonda percussione. Dopo il primo anno lo raggiunge anche la moglie che trova impiego presso una lavanderia. Giuseppe e Antonio tornano a Varano nel 1997, nella casa che attraverso i sacrifici sono riusciti a costruire. I due figli sono rimasti a Zurigo dove vivono e lavorano. Il soprannome Per, Pero in dialetto, nasce in paese quando era ragazzo, ma nessuno ci è riuscito a spiegare bene il motivo. Mentre il suffisso gol è stato aggiunto per ricordare i continui racconti sui suoi trascorsi da calciatore locale. Gli esecui si sono tenuti ieri a Varano-Melegari dove tante erano le persone presenti, in particolar modo i volontari della proloco varanese. Doveroso quindi anche da parte nostra questo piccolo contributo commemorativo per ricordare Perogol, indubbiamente una delle persone più amate della nostra terra, della nostra provincia, in modo particolare della terra varanese, e quindi del territorio di Varano-Melegari. Ma adesso cambiamo decisamente tono e parliamo di festa, perché come ben sapete è arrivata l'Epifania, che tutte le feste si è portate via, ma ha lasciato il ricordo di una bellissima manifestazione, ormai grande tradizione, che ha vestito a festa l'intera cittadina di Fornovo dal 5 al 7 di gennaio. Stiamo parlando di Befane e Befani, che ha visto l'arrivo di bande folcloristiche, bande musicali, concerti, spettacoli, stand gastronomici e non solo, insomma, tanto tanto divertimento e anche un pizzico di magia in queste tre giornate dedicate per l'appunto alla Befana e ai Befani. A guidarci nel riepilogo di questo magico weekend fornovese, le parole e il racconto di Cesare Groppi. E' incominciato venerdì 5 gennaio con un concerto della banda musicale Ceccano di Frosinone, l'ottava edizione del raduno nazionale dei Befani e Befane di Fornovo Taro. Sotto al Palabefana del Foro 2000, le masorette e i musicanti diretti dall'eclettico maestro Adamo Bartolini hanno dato il via all'esibizione di Bande in Piazza del 6 gennaio. Sette bande per sette piazze con sfilate lungo le vie del paese, da Piazza del Mercato a Piazza Tarasconi, da Piazza dell'Uberisco a Piazza Matteotti, Piazza 4 Novembre e le piazzette di Via Velluto del Foro 2000. Oltre alla banda di Frosinone si sono esibite l'Associazione Filarmonica di Moncalieri, quella di Felino, la folk band Tullio Candian di Monte Chiarugolo, la staffetta fra la banda di Felino e il corpo bandistico Luigi Pini di Fontanellato, la banda di Mezzani, quella di Castregnano accompagnata dal gruppo di ballerine Orchidee di Langhirano. Il concorso musicale è stato assegnato alla banda di Monte Chiarugolo e alla banda di Frosinone la miglior coreografia. Una giornata intensa tra i banchi del mercato con i gadget e il villaggio della Befana, i gratte pesca, ristorante, musica country e il trenino della Befana, animazioni bimbi in Piazza del Mercato e dell'Uberisco e le attrazioni culturali con il laboratorio Grafium della cooperativa Lasse in Piazza Pizzi e la visita guidata alla pieve parrocchiale a cura dell'ufficio turistico. Ha destato interesse addirittura nazionale la giovane età della sindaca più giovane di Italia che possiamo vantare di avere noi nel nostro territorio, quindi nella provincia di Parma. Un paese gioiello del nostro territorio, ossia Bardi, vanta quindi la presenza come primo cittadino di Valentina Pontremoli all'età di appena 27 anni ma già da 3 anni sindaco, quindi primo cittadino di questa regione, bella cittadina, quindi questo bel paese all'avanguardia peraltro del nostro territorio. Il servizio è stato realizzato addirittura dalla rete nazionale, quindi dalla RAI che ha intervistato Valentina e da lei scopriamo anche qualche progetto nuovo e innovativo che parte per l'appunto dalla cittadina di Bardi. Grazie Valentina Pontremoli, sindaco di Bardi. Si chiama Valentina Pontremoli, è la sindaca più giovane d'Italia di un piccolo paese, controtendenza, aumentano le nascite e sono più quelli che restano di quelli che se ne vanno. Maria Leiter. Poco più di 2000 abitanti Bardi in provincia di Parma è un comune antico, nasceva come principato da 3 anni qui amministra la donna sindaco più giovane d'Italia, 27 anni. L'idea di diventare sindaco, chi te l'ha data? È nato dalla voglia di rilanciare il nostro piccolo comune, siamo messi insieme e abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura perché ci teniamo, teniamo il nostro paese, teniamo la nostra comunità, la gente, il bar, la questione dell'amicizia, della famiglia, che sono valori molto importanti e che in questo paese riescono a sopravvivere e a diventare sempre più forti. Grazie alla tecnologia arrivata con le aziende della Motor Valley, Bardi è il paese più cablato d'Italia, connesso con tutto il mondo con la fibra ottica. Il primo a sperimentare la scuola in videoconferenza per sostenere le spese, la sindaca insieme all'amministrazione comunale organizza matrimoni, convegni, gite, turistiche, ma anche corsi d'inglese, sartoria, fotografia. Secondo me, nonostante quello che si dica, che sta andando tutto male, secondo me si può ripartire dalle piccole cose, perché stiamo parlando di piccoli posti che però fanno grandi cose. E naturalmente è fonte d'orgoglio per tutti quanti noi, è allargata non soltanto al territorio di Bardi, ma tutta quanta la nostra provincia, nonché regione, il fatto di avere una sindaca così giovane e devo dire così amata e con così tanti consensi da parte dei propri concittadini. Un applauso quindi a Valentina Pontremoli, che ha davanti a sé veramente una grande e bella carriera politica e le auguriamo veramente con tutto il cuore di procedere sempre avanti, così con questa energia, con questa forza, con questo entusiasmo e tutto l'appoggio e il sostegno dei suoi concittadini. Ma adesso è tempo di andare in pubblicità, quindi la nostra edizione si sospende per una pausa pubblicitaria. Vi consigliamo, vi preghiamo, vi invitiamo ad ascoltare i consigli della regia. Non ritorneremo fra pochissimo, ma prima di dare spazio alla pubblicità, un piccolo appello che riguarda il buonsenso, anzi il senso civico di ognuno di noi, perché purtroppo sono molto frequenti, soprattutto nella cittadina di Collecchio, le lamentele dei cittadini per il mal comportamento, quindi la male educazione, dei padroncini degli amici a quattro zampe. Chi ha cani e li porta a passeggio spesso si dimentica di portare con sé l'attrezzatura necessaria per pulire le strade da eventuali ricordini lasciati per l'appunto dagli amici a quattro zampe. Quindi cerchiamo di sensibilizzare tutti quanti, tutta la cittadinanza, soprattutto chi ha il piacere e l'onore di poter accudire, avere accanto a sé un amico a quattro zampe, che si ricordi che ci sono sì i piaceri, ma anche i doveri. Questo è un invito garbato, naturalmente, che estendiamo a tutti quanti. Adesso è tempo di andare in pubblicità, ci rivediamo subito dopo, con un piccolo spazio sportivo a cura di Cesare Groppi e naturalmente anche le attesissime previsioni meteo fra pochissimo. Il 70% dell'occupazione è al femminile L'80% dei responsabili di settore è under 35 Servizi educativi, pulizie, servizi ambientali, progetti di assistenza, promozione turistica, progettazione europea. Consorzio Fantasia, un impegno condiviso per far crescere il territorio. La pianura padana è uno dei luoghi più inquinati d'Europa. Certo non si può lasciare il lavoro, ma almeno nei momenti liberi o nei weekend perché non andare a prendere una boccata d'aria pulita sul nostro appennino. Da qui l'idea di questo programma, che vi vuole dare suggerimenti per trovare la vostra casa in appennino. Un territorio meraviglioso, raggiungibile in poche decine di minuti, in cui trascorrere piacevoli momenti per godere del verde, della fresca tranquillità e dell'aria pulita, ma anche un investimento per i momenti difficili. Questo vuol dire avere una casa in appennino, ma è soprattutto anche un modo per far vedere quanto sia bello l'appennino a due passi da noi, una risorsa da valorizzare di cui pochi conoscono la bellezza e di tanti pregi. Cerco Casa in Appennino lo trovate sul sito www.cercocasinappennino.it Se volete informazioni sul programma o sulle case, potete mandare un'email a infochiocciola.cercocasinappennino.it oppure telefonare al 39 39 87 87 02 Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Ed eccoci di nuovo con voi, gentili telespettatori. In questa seconda parte di solito siamo abituati a parlare di sport, non abbiamo notizie per quanto riguarda il campionato, bensì vogliamo portare nelle vostre case le immagini e il resoconto di una delle manifestazioni più amate e attese di tutto l'anno, la prima grande corsa della prima domenica dell'anno, perché anche quest'anno si è effettuata la dolorosa, così viene denominata, la prima domenica di gennaio. Inoltre 200 partecipanti si sono radunati davanti al municipio di Fornovo alla domenica mattina per dare vita a questa manifestazione. Il cinefoto racconto naturalmente di questa giornata, a cura di Cesare Groppi, una giornata che è stata resa ancora più suggestiva e magica grazie alla presenza di una fittissima nebbia. Ecco a voi il servizio. Dopo sole, pioggia e neve, la decima edizione della La Dolorosa, la classica corsa della prima domenica di gennaio, di quasi 30 chilometri da Fornovo Taro e Pennelli di Berceto, ha riservato un'improvvisa mattinata di nebbia. Erano oltre 200 alla partenza dalla piazza dei municipi di Fornovo, meno l'arrivo. Proviste due tappe intermedie, una ai Boschi di Bardone dopo 10 chilometri circa e l'altra a Cassio dopo una ventina di chilometri. Un bus navetta ha provveduto poi al trasporto degli atleti al camping di Berceto per il ristoro e le premiazioni finali. Quattro i punti di ristoro intermedie, primo a Boschi di Bardone, a Casola, a Cassio e l'ultimo prima dell'arrivo in zona Castellonchio. Domina la corsa Pietro Cabassi della società Minerva con il tempo di 2 ore 9 minuti, distaccando il secondo classificato di ben 6 minuti. La gara è andata molto bene, un piacevole ritorno, quella dolorosa che avevo già vinto nel 2010, torno 7-8 anni dopo. No, sempre molto bella, un bellissimo allenamento in previsione delle maratone della primavera. Il momento più difficile forse è la discesa dopo Cassio, dove poi riprende la salita, le gambe sono dure per via della discesa, è il momento un pochino più duro. Elena Di Vittorio con 2 ore e 37 minuti è la prima tra le donne. Ma avevo una ragazza davanti che però si è fermata a Cassio. Dopo oltre 20 chilometri le gambe sono abbastanza stanche, però è un bellissimo percorso, a me piace tantissimo, è stata la mia prima gara in assoluto e quindi la rifaccio sempre volentieri. Daniele Santinato è arrivato da Milano, invece ha percorso tutta la statale in compagnia della sua massia. La corsa è andata molto bene, mi è piaciuta tanto perché è in salita, allenante, per lei era stupidata, si annoiava, però per me è stata molto faticosa e preparatoria per la prossima maratona, terre verdiane. Mi trovo bene con lei così, naturale, col cane che mi fa divertire e si diverte anche lei. Vieni qua Masha che saluti, dai! Qua, qua Masha, vieni qua, vieni qua. Guarda, guarda là, di qualcosa. La gara è stata organizzata dal Camping Pianelli in collaborazione con i comuni di Fornovo, Terenzo e Berceto. E dopo il momento dedicato allo sport, invece ora arrivano le tesissime previsioni meteo. Nei prossimi giorni una situazione prevalentemente stabile, con cielo poco nuvoloso e possibilità di leggere precipitazioni. Miglioramento deciso, miglioramento nella giornata di venerdì. Attenzione al crearsi di nebbie proprio nella giornata di venerdì. Mentre invece sabato ci sarà prevalenza di bel tempo ovunque. Le temperature sono in perfetta media stagionale. Vi segnaliamo, per esempio, a Collecchio, Medesano, la minima sarà di 4 gradi, la massima di 10. A Solignano, 3 e 10 gradi. A Varsi, 2 e 9 gradi. A Varano-Melegari, 3 e 10 gradi. Nella giornata di domani, quindi nella giornata di mercoledì, ci sarà un lieve rialzo delle temperature che poi rientranno subito nella media a partire da giovedì. E questo è quanto, gentili telespettatori. Noi vi ringraziamo per aver seguito anche questa edizione di TG Parmese. Se vi fosse sfuggito qualche articolo, volete magari approfondire qualche argomento, non dovrete far altro che cliccare l'articolo che più vi piace, l'argomento che più vi piace, consultando la pagina web www.parmese.net oppure se vi foste persi questa edizione e la vorreste riascoltare, ebbene ci saranno le repliche naturalmente nel palinsesso di Videotaro oppure potrete anche cercare per l'edizione del telegiornale che vi siete persi e che più vi interessa direttamente su YouTube selezionando, indicando TG Parmese e poi la data naturalmente dell'edizione che vi interessa. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi ricordiamo che le prossime edizioni con nuove notizie si terranno venerdì sera e anche domenica sera, naturalmente sempre qui su Videotaro. Grazie e buona serata.